Gianfranco Loiacono, il piano regolatore del Comune è scaduto dal 2010 e adesso a distanza di 4 anni probabilmente arriverà un commissario. Sì, abbiamo scoperto ieri nella conferenza dei capigruppo, il Presidente ci ha dato questa notizia. Nel 2011 il Comune di Partinico aveva fatto l'ufficio di piano per problemi economici, come voi sapete, non è stato possibile dare incariche all'esterno e a quanto pare manco all'interno e quindi questa cosa si è trascinata negli anni. Quest'anno, a marzo del 2014, il Comune scrive alla Regione dicendo che sta predisponendo le cose per dare incarico e quindi predisporre tutto quello che serve per fare il piano regolatore generale, che è una cosa importantissima. Alcuni consiglieri dell'opposizione vogliono ricordare che l'anno scorso avevamo chiesto all'assessore Arramo a che punto era il piano regolatore generale e l'assessore diceva che c'erano questi problemi economici, si sarebbe cercato di reperire le somme per dare questi incarichi. Di fatto sono passati quasi nove mesi da quella lettera che il Comune ha scritto alla Regione, dove diceva che avrebbero provveduto a cercare le somme. Oggi ci risponde la Regione, il 10 novembre è arrivata una lettera al Comune di Partinico, La Regione dice che capiamo che ci sono problemi economici, ma almeno le direttive generali le avete fatte. Se non le fate entro 30 giorni dal ricevimento della lettera verrà un commissario.